Operazione importante, si diceva soprattutto importante la tempestività che ha impedito di mettere sul mercato qualunque banconote, anche una sola banconote. Sì, direi di sì, anche perché in Campania, anche se non qua vicino, nel recente passato sono state sequestrate banconote già in fase di spaccio, in grossi quantitativi però già in fase di spaccio. Noi siamo riusciti a evitare che l'attività criminosa cominciasse di fatto. Era cominciata ma non per il pubblico, non per la fase dello spaccio. Un fenomeno che resta quindi importante, la produzione è lo spaccio di banconote false. È un fenomeno che danneggia l'economia, ormai non solo più quella nazionale, avendo l'Italia aderita all'euro, danneggia l'immissione di banconote. Ma poi in questi quantitativi ha degli effetti sull'economia, sugli equilibri finanziari della stessa Banca Centrale Europea. Dispiace che la nostra area sia una delle aree più interessate, almeno al fenomeno della produzione. Diciamo che inizia bene per noi, insomma un po' meno bene per loro. Sono stati arrestati cinque soggetti, tre dei quali sono stati rinvenuti mentre operavano, quindi in prossimità delle macchine da stampa. Altri due invece sono due fratelli originari di Torre Annunziata, che secondo le nostre indagini sono poi i reali organizzatori, nonché i finanziatori dell'intera attività illecita. La Campania, come sappiamo un po' tutti, sicuramente si pone al primo posto in termini di stamperie per banconote contraffatte. Tuttavia i maggiori sequestri, soprattutto nel primo semestre del 2014, sono stati effettuati nella parte nord-ovest dell'Italia. Come ho detto poc'anzi, l'area in cui insisteva la stamperia era un'area creata ad arte. Avevano un sistema di areazione, un sistema per monitorare l'area esterna, nonché anche alcuni sistemi per silenziare i motori delle macchine da stampa. Sono state rinvenute cinque macchine da stampa industriale, nonché un'ulteriore area più piccola occultata dietro uno scaffale di legno, un finto scaffale di legno, nonché un altro doppio fondo artatamente ricavato all'interno del pavimento a cui era possibile accedere mediante l'azione di un telecomando automatico. Diciamo che siamo ancora al lavoro per individuare i canali con i quali sarebbero state poi immesse in commercio le banconote. Tuttavia riteniamo che abbiamo smantellato l'organizzazione ancora prima che la stessa mettesse in circolo queste banconote. Questo è merito della tempestività con cui abbiamo agito. Per come si erano organizzati sicuramente possiamo ritenere che non erano degli sprovveduti. Inoltre, anzi, li possiamo definire specialisti del settore. Bisogna tenere presente che tre dei cinque arrestati avevano precedenti specifici, alcuni dei quali erano già stati sottoposti ad arresti proprio nel settore del contrasto al falso nummario.